I vantaggi che deriverebbero da scelte di questo tipo sarebbero di gran lunga inferiori agli svantaggi che saremo costretti a sopportare, dichiara Gianluca Vacca, cittadino deputato del Movimento 5 Stelle. Prossimamente sarà dato il via a una raccolta firme in tutte le piazze dei comuni interessati, con l'obiettivo di esercitare una forte pressione nei confronti della classe politica, abituata a sottovalutare i reali interessi dei cittadini e troppo sensibile agli appetiti delle lobby internazionali, come quelle petrolifere. Sia il governo attuale, quello precedente, e il governo berlusconi hanno iniziato a dare il nostro territorio, a vendere il nostro territorio a società petrolifere, in particolare estere inglesi, con delle ricadute, un impatto ambientale che sarà devastante per tutta la nostra economia e per tutto il nostro territorio. Noi ci opponiamo a questo, abbiamo iniziato quindi una raccolta firme per sensibilizzare i cittadini su quello che sta avvenendo e stiamo studiando la possibilità di fare due ricorsi al TAR per impugnare le autorizzazioni che sono state concesse e soprattutto per impugnare la SEN, che è l'atto governativo che ha dato al via a questa trivellazione selvaggia in tutta l'Italia. Ci muoveremo in due direzioni, sensibilizzazione dei cittadini, da una parte con la raccolta firme e azioni amministrative o giudiziarie per bloccare questa svendita del nostro bellissimo territorio.